Musica Buonasera e bentrovati ad una nuova edizione del telegiornale di Rieti Life. Tutta l'informazione di Rieti e Provincia su rietilife.com, Facebook e Instagram. Sul terminillo è arrivata la prima neve della stagione. La perturbazione che attraversa l'Italia, che colpisce il reatino da ieri, insieme all'abbassamento delle temperature, ha portato i primi fiocchi in quota. Vietta e zone meno in quota sono già ricoperte di uno strato di neve già dalla notte scorsa. Tanti gli scatti sui social, ma per la stagione sciistica tante incognite. Arriva il guardrail su via del terminillo. I residenti lo avevano chiesto a gran voce e lo hanno ottenuto dopo mesi e dopo diversi incidenti, uno dei quali è costato la vita al 19enne Gianluca Mistico a fine agosto 2021. Dopo i rilievi dei giorni scorsi, la ditta incaricata stamattina ha iniziato ad installare le strutture, che si trovano a ridosso del quartiere residenziale. Piccoli disagi alla viabilità per il senso unico alternato, un piccolo problema che diventa nullo se si pensa al cambio, in termini di sicurezza, per le sorti della Terminillese. Le telecamere agli incroci e gli autovelox fruttano diversi milioni di euro al comune di Rieti. In appena nove mesi le sanzioni accertate sono di 3,5 milioni. Molto hanno contribuito ai recenti dispositivi installati o riattivati nel capoluogo. Parliamo dei tirè dagli incroci o gli autovelox sulla superstrada, a Villa Reatina e prima dello svincolo per Roma. Stimiamo che i soldi effettivi finiranno nelle casse comunali, si attesteranno al 70% di quanto accertato, fanno sapere dal comando della polizia locale. Truffavano i malati di sclerosi e di artrite reumatoide. Così il Tribunale di Terni ha condannato Fabrizio De Silvestri, avvocato cinquantenne di origini torinesi e residente a Rieti, a cinque anni di reclusione oltre all'interdizione temporanea dai pubblici uffici. Le altre quattro condanne a quattro anni di reclusione riguardano la fisioterapista Annalisa Grasso di Rieti, l'ingegnere biomedico Edoardo Romani di Terni, il medico Pierluigi Proietti di Narni e il farmacista Giovanni Domenico Petrini di Rieti. Assolto per non aver commesso il fatto il collaboratore Simone De Marco di Città Ducale. I giudici hanno condannato i cinque a liquidare 126 mila euro a 12 parti civili. Nasce la prima centrale operativa territoriale del Reatino. Oggi l'inaugurazione servirà per instaurare un'assistenza sanitaria di prossimità sempre più sviluppata e capillare sul territorio della provincia di Rieti. Operativa dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 20, vi lavorano infermieri, psicologi, assistenti sociali, medici di unità di continuità assistenziale e operatori sanitari. Lo sport e il basket è un momento sempre più nero per la NPC che perde in casa contro Piacenza. Quinto K.O. di fila 66-58 con Tucker sugli scudi. Cozio Ceccarelli alla fine del match ha commentato Sono arrabbiato, la colpa è mia ma il campionato è lungo. Nel momento decisivo siamo andati nel pallone. Sabato invece la Sebastiani ha vinto a Empoli, finale 67-84. Reatini a punteggio pieno anche grazie a un super spanghero a 22 punti. Quarto successo di fila per la nuova Rieti Calcio che al Green Park e la Foresta davanti al suo pubblico e a Bomber Federico Dionisi vince 8-0 sul Real Monteleone-Sabino. Doppiette di De Giorgi e Santo Prete e gol di Valentini, Ramazzotti, Penta e Patacchiola. La squadra di Stefano Lotto è saldamente al comando della classifica di terza con 12 punti e non incassa gol da 345 minuti. Domenica la sfida a Scandriglia. Di calcio si parla stasera in pillole di Sport Life, trasmissione condotta da Svero Antonetti. Appuntamento alle 21 su rietilife.com, Facebook e Instagram. Iniziano nel weekend i mondiali di calcio in Qatar, un'edizione che passerà alla storia per le polemiche che si stanno dipanando in tutto il mondo, soprattutto per le regole a cui il tifo dovrà tenersi. Tra queste c'è quella di non sventolare bandiera arcobaleno, simbolo della pace ma anche del movimento LGBTQ+. Per girare il divieto un'associazione ha realizzato una versione in cui sulla bandiera bianca vengono riportati i codici dei colore pantone. Su Italia Life 24 tutte le notizie dall'Italia e dal mondo, dallo sport alla cronaca. Era questa l'ultima notizia del telegiornale di Rietilife che torna domani sempre alle 20.45 su rietilife.com, Facebook e Instagram. Buona serata. Buona serata. Buona serata. Buona serata. Buona serata.